Allora Diego, cosa pensi dello scudetto della Juve e cosa ci vuoi dire del Napoli? Io credo che la Juve ha sempre avuto nella federazione grandissimi giocatori, ma da sempre è meritato, è meritato, però se un giocatore della Juve sbaglia e non viene fatto niente, non viene colpito da nessuno arbitro, se sbaglia un giocatore del Napoli, della Verona, della Fiorentina, della Inter, questo è vero sbagliato. E per questo che la Juve è da sempre, da quando giocavo io, che dicevo questa cosa, grossi, grandi giocatori in federazione la Juve. Per Iguain penso che non farà più un campionato così da 30 gol, ha segnato tutte le partite, e penso che conoscendo De Laurentiis farà soldi col Pipita, per il resto Napoli deve sperare a fare il secondo posto per la Champions, questa è la cosa importante. Cosa pensa di Conte, allenatore della Nazionale, che ha firmato già un contratto per il Chelsea e c'è agli europei fra un mese e mezzo, diciamo? Ma questo è uno schifo, è uno schifo, ma come può un allenatore di una nazionale prestigiosa come l'Italia fermare un contratto per il Chelsea? Questo è uno scandalo, è una cosa schifosa, è una cosa schifosa. Grazie Diego Armando Maradoni, il footballer del calcio, a tutti voi da Carlo Verna, arrivederci.